Ciao, sono Cecilia Sardeo, fondatrice di Biz Academy e ti do come sempre il benvenuto ad un'altra puntata di Impact Girl. Questa puntata è ideale per te se stai pensando di lanciare la tua attività in pereditoriale ma non ti senti proprio all'altezza. Prima di entrare nel cuore della nostra puntata ti ricordo come sempre di iscriverti al canale YouTube se stai guardando questo video da YouTube, soprattutto cliccando sulla solita campanellina che trovi accanto al pulsante iscriviti oppure via mail se stai guardando il podcast dalla pagina biz-academy.it slash podcast. Mi raccomando solo in questo modo potrai evitare di perderti tutti i più preziosi aggiornamenti di Impact Girl. Cominciamo! Benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale tutta al femminile. Oggi ragazze scopriremo che imprenditrici si diventa e andremo a sfatare il mito secondo il quale noi donne non siamo fatte per questo mondo. Lo faremo insieme a Margherita Pagani, fondatrice di Impact On. Ciao Margherita e benvenuta. Grazie mille Cecilia, è un piacere mio essere qui. Tu Margherita sei la massima espressione, mi piace definirti, di una donna ad alto impatto e infatti con Impact On hai fondato, ce l'ho qui davanti, un'organizzazione che si concentra solo ed esclusivamente sul trovare, analizzare e selezionare progetti di impatto sociale e ambientale esistenti, che siano anche efficaci, mettendoli poi a disposizione di altre realtà in tutto il mondo, quindi perché possano replicarle in modo più rapido e veloce. E la tua intuizione è funzionata al punto che nel 2018 finisci niente di meno che tra gli italiani under 30 di maggior talento, gli italiani under 30 di maggior talento su Forbes. Però il tuo background è molto variegato, tu hai giocato a pallavolo credo a livelli notevoli, hai studiato arte, non sei quindi partita forse con quest'idea di diventare un'imprenditrice da quando avevi cinque anni, è un'idea che è arrivata nel tempo e quindi aiutaci a capire da dove sei partita, che domande ti sei fatta e in maniera tale che chi ci sta ascoltando e sta pensando vorrei partire ma non so da dove possa avere una sorta di gps. Allora tutto verissimo, il mio background o la mia traiettoria diciamo che non segue le linee ufficiali, infatti soprattutto in contesti internazionali quando mi chiedono che cosa ho studiato io rispondo fine art, belle arti, a Brera e ho giocato pallavolo fino a mb1, ho giocato 12 anni e definitivamente non arrivo da una famiglia dove il fare impresa o l'essere impregnatori sia mai stato un riferimento particolare. Quindi per me è stato particolarmente difficile quando negli anni mi sono resa conto che ero interessata a fare impresa, ero interessata a creare dei progetti miei ma tutte le realtà intorno a me mi dicevano che o mi mancava un titolo o non era per donne o la tecnologia era tutta male first e quindi ci sono state tante domande che ho iniziato ad ascoltare nella mia stessa testa prima che nella realtà che mi circondava e che in qualche modo mi stavano frenando. Quindi ho iniziato, tu mi chiedevi da dove sei partita? Credo che chiunque voglia creare un progetto proprio e chiunque lo voglia fare soprattutto rispondendo a un'urgenza personale della cosa o della situazione che vogliamo creare si debba partire da se stessi. Quindi nel mio caso per partire da me stessa devo per forza sedermi di fronte a uno specchio o sulla mia sedia di fronte a una pagina bianca e capire quali domande avevo dentro e che cosa realmente mi stavano dicendo con rispetto ai miei stessi pensieri e alle mie stesse paure. Per esempio una che è sempre stata e a volte nei giorni difficili continua a essere un po' un problema perché io? Perché io ce la posso fare? Perché io posso fare questo progetto? Perché io dovrei avere successo? Perché io? E quando ho iniziato a capire che tutte le domande io le potevo girare a mio favore per esempio il perché io è diventato perché no il famoso why not perché alla fine ci sono due cose molto importanti che negli anni ho imparato, ho scoperto e persone mi hanno iniziato a scoprire. La prima per esempio è che i riferimenti che abbiamo ancora rispetto alle storie di successo purtroppo per fortuna sono sempre un po' dei soliti noti quindi il profilo pop o il profilo che riusciamo a ricondurre a una storia semplice è anche quello che fondamentalmente mediaticamente chiama più l'attenzione o richiama un po' più le attenzioni delle persone ma questo non significa che siano gli unici esempi esistenti, assolutamente no. Quindi da una parte ho iniziato a chiedermi perché non io? Perché non una studentessa di belle arti che ha giocato a pelle a volo e che la prima volta che ha sentito parlare di un business plan era cinque anni fa e ha sentito parlare di un business plan e la prima cosa che ha chiesto è perché fate questa cosa? Non è più importante andare a parlare con le persone sul territorio a capire se quello che si vuole fare veramente ha un senso invece di passare 37 pagine di un documento a un finanziatore ma l'altra molto importante per esempio si correga diciamo un po' di più alle mie passioni viene da alcuna qualche nozione di neurologia e neuroplasticità noi sappiamo che il nostro cervello è molto plastico soprattutto nei primi 20 25 anni di vita ma poi continua a essere plastico soprattutto in personalità e in persone che ricercano modi di apprendere sempre o imparare cose nuove o creare cose nuove e da un punto di vista neurologico e neuroplastico la cosa interessante è che quello che ci diciamo quello che ci chiediamo è un po' come se settassimo nel nostro cervello una notifica noi diciamo ok io non posso noi stiamo dicendo al nostro cervello di confermarci e trovare tutte le conferme possibili nella nostra realtà o sui media piuttosto che del perché io non posso se invece noi giriamo quella domanda e iniziamo a chiederci perché non io il cervello inizierà a cercare da un punto di vista di prefrontal cortex perché sì quali sono tutti gli altri elementi tutti gli altri esempi che invece confermano che sì noi possiamo quindi una delle domande sempre sta quella e ho iniziato a girarla al contrario proprio perché mi sono resa conto che non volevo più dare quei certi comandi e non volevo più avere l'attenzione sul fatto che non si può sì che si può e se mancano i tragitti spianeremo quello che ci sarà da spianare per creare quei cammini. Mi piace moltissimo questo cambio di prospettiva che mi fa venire in mente come la mente non faccia distinzione fra quello che è reale e quello che è immaginato quindi che è un po quello che ci stavi dicendo pochi secondi fa per cui le reazioni chimiche sono le stesse sta a noi poi decidere se vogliamo crogiolarci nell'idea che possiamo farcela o piangerci addosso e affondare nell'idea che invece non siamo portate per riuscirci e in effetti senza queste fondamenta non c'è finanziatore o business plan immagino che possa tenere. Esattamente oppure sì però lì dove troviamo queste personalità che si autoconvincono così tanto che devono fare qualcosa per dimostrare il loro valore ad altri e seguendo lo script o il formato o la ricetta di altre persone che quelle stesse domande interne o quegli stessi dialoghi interni si trasformano nelle voci di altre persone che realmente o a livello immaginario ci dicono o noi pensiamo che vogliano che noi si vada in una direzione piuttosto che in un'altra quindi assolutamente per il nostro cervello per il nostro sistema operativo qualunque cosa noi ci diciamo ma anche qualunque cosa noi decidiamo di ascoltare e di assumere come verità o verità così intoccabile decide i livelli di energia i livelli di capacità che otterremo per poter fare una certa cosa piuttosto che un'altra. Potentissima questa cosa poi però una volta che hai gettato le fondamenta e con un certo allenamento perché non è una cosa che fai dal giorno alla notte ma devi continuare a praticarla ti convinci in senso realistico perché poi hai detto ok adesso dobbiamo spianare la strada capire cosa devo fare come farlo da dove partire ti convinci che ce la puoi fare come che cosa ti ha portato poi a scegliere quello che stai facendo oggi come hai scelto a che cosa dedicarti a quale progetto dedicare tutta la tua attenzione? È stato decisamente un percorso interessante perché ho sempre avuto interessi molto diversi tra loro quando giocavo a pallavoro ero la pecora nera perché facevo belle arti invece di avere un day job che semplicemente mi permette se gioca la pallavolo quando ero belle arti ero la pecora nera perché entro parlando di politica dei movimenti sociali all'occupato Wall Street quindi ci è voluto un po' per capire che era arrivato per me il momento e sentivo in me questa necessità di invece di star spiducchiando qua e là o cercando stimoli da diverse parti per cercare di trovare il mio posto nel mondo ero arrivata a un livello di maturazione o a una stagione mia personale per cui volevo dedicare o riunire queste cose in un progetto mio che oggi si chiama appunto tecnologia per impatto sociale o un progetto che ha a che fare con quello che si chiama lo sviluppo sostenibile a livello internazionale come tu dicevi anche prima e per me ci ho pensato poi negli anni e ci ho pensato anche per provarmi a questa intervista in realtà ho capito che io per più o meno otto anni perché ho fatto un liceo scientifico artistico poi belle arti e brera poi vari anni facendo ricerca su questioni psicologiche di comunicazione di neurologia mi sono rese conto che i miei riferimenti non sono mai stati appunto il finanziatore o il business plan o il zuckerberg di turno ma sono stati i filosofi i pensatori i creativi i pittori i poeti gli innovatori che hanno fatto da un punto di vista culturale un movimento che poi ha portato allo sviluppo della nostra società perché se ci pensiamo dal rinascimento per esempio ma anche nell'antica grecia non c'era questa separazione tra politica scienza e innovazione e correnti di pensiero perché tutte quante parlavano o rappresentavano le nostre narrative individuali e collettive e ovviamente quando la sfera dello sviluppo individuale la sfera dello sviluppo collettivo si incontra e quello è automatico che sia così nessuno di noi vive in una scatola vuota o in isolamento totale quando la sfera dello sviluppo individuale e la sfera dello sviluppo collettivo si incontrano lì è dove a seconda delle narrative noi possiamo creare una certa realtà o un'altra e oggi per esempio si parla di impatto sociale ma non è nulla di diverso realmente stiamo parlando di quali sono i diritti di un individuo quali sono le capacità gli strumenti che noi diamo a disposizione a tutti gli individui del mondo per esempio quasi fosse appunto un diritto umano e quali sono le narrative di successo collettive alle quali stiamo puntando di nuovo ai nostri cervelli cosa stiamo dicendo che è possibile o stiamo dicendo che per avere successo bisogna fare terra bruciata intorno a noi in modo tale che nessuno ci possa minacciare o nessuno ci possa contrastare o competere con noi o stiamo cercando di creare una realtà dove veramente la prosperità possa essere condivisa dove certi sistemi verticali e di sfruttamento dell'altro abbiamo capito che già non ci servono più e quindi oggi io mi dedico a qualcosa di impatto sociale perché la mia più grande passione è questa cosa succede quando la sfera individuale incontra quella collettiva cosa cosa c'è lì in mezzo e quali sono i nostri modelli di riferimento per quello impact on come dicevi tu è questo è questa libreria o a volte quando parlo in italiano dico questo giallo zafferano delle ricette di impatto invece di essere ricette di cibo che noi possiamo cucinare a modo nostro e dando il nostro touch personale in tutto il mondo sono ricette di impatto sociale che hanno bisogno che assolutamente il nostro contributo della nostra prospettiva e della nostra individuale forma di crearle nel nostro proprio contesto ma che non è non è molto diversa da quello che faremo per cui c'è una cena quindi da lì arriva dal concetto di rinascimento anzi dopo tanti anni all'estero credo che non ci sia mai stato un momento storico più importante per iniziare a chiederci se non sia il caso di avere un altro rinascimento italiano se non possa essere ancora la nostra bella italia o il nostro sud europa a sollevarsi e alzarsi da queste da questi tempi abbastanza oscuri da un punto di vista intellettuale e culturale e dire qualcos'altro è possibile esattamente come i nostri ancestors hanno fatto quando fondamentalmente l'italia e l'europa era decimata dalla dalle piaghe quindi mi sembra che sia lì un po dove dove io ritrovo le radici del perché faccio quello che faccio quindi sei partita chiedendoti perché non io poi hai proseguito con ok che cosa che cosa posso fare da dove sei partita una volta che era chiaro quello che potevi fare allora sono partita la mia più grande difficoltà è stato fatto è stato il fatto che quando ho iniziato a capire che lo volevo fare non sentivo in italia la possibilità o lo spazio per farlo ovviamente guardandolo in prospettiva bisogna ricordarci che nel 2011 2012 l'italia era un soppeggior momento dopo i colpi della crisi economica quindi non è una questione né del mio essere donna né del mio nel contesto italiano ci sono molti fattori che hanno giocato a favore o contro questa mia prospettiva quindi la prima cosa che ho fatto per me e che sentito importante era trovare il modo di distanziarmi da un contesto in cui sentivo di non poter pensare in modo sano amo l'italia sono italiana tutto quello che faccio lo faccio chiaramente dalle mie radici italianissime anche con anche se all'estero pensano sempre che sia olandese altissima bionda giraffa quindi nel mio caso è stato veramente la necessità di trovare uno spazio dove io potessi pensare in modo un po più sano quindi prendere delle distanze da quelle che io sentivo come come pressioni o come domande o richieste o esigenze dall'esterno per poter trovare la mia propria voce in tutto quel gran coro di voci che sentiamo sempre al nostro testo nel mio caso sono andata in latinoamerica la mia storia include quasi cinque anni in latinoamerica a partire al 2014 quindi ho iniziato a cercare non solo quello spazio più sano e diverso stimolante anche è assolutamente una sfida perché comunque stiamo parlando di un contesto molto diverso da quello europeo e iniziare a trovare riferimenti diversi io non avevo esempi di qualcuno che ce l'avesse fatta senza seguire diciamo il sentiero comune o il sentiero che tutti sentiamo parlare quindi non potevo rimanere in un contesto dove l'unica narrativa possibile o l'unica conversazione che si potesse avere dovesse per forza essere quella quindi possiamo dire che poi questi viaggi sono stati un catalizzatore per lo sviluppo del tuo progetto anche perché ti hanno dato la possibilità di vedere delle dei progetti di impatto sociale e ambientale esistenti e da lì poi l'idea di replicarli altrove o come come è nato poi tutta l'idea di scalabilità del progetto ecco quella storia ha molto a che fare con l'italia in realtà perché io ho iniziato a pensare a questa cosa dei blueprint o delle ricette ad impatto sociale che altri potessero usare in qualunque parte del mondo tra il 2015 e il 2016 io ero in cile quindi ero già in latinoamerica stavo già dicendo a me stessa ok andiamo andiamo a toglierci questa sete di curiosità andiamo a vedere altre realtà anche locali a mio proprio rischio pericolo perché non avevo nessun tipo di di rete o nessun tipo di diciamo di materasso sul quale cadere in cile o in latinoamerica nel 2015 per me è stato un po' un momento c'è un prima c'è un dopo per me perché nel 2015 noi come europa e come italia abbiamo iniziato a vedere la crisi rifugiati quindi una probabilmente delle crisi umanitarie più importanti e più pesanti del degli ultimi anni arrivare alle nostre spiagge arrivare a casa nostra e ci siamo dovuti scontrare e soprattutto la nostra generazione di millennial con l'ennesima e forse definitiva conferma dell'incapacità istituzionale di rispondere a questo tipo di crisi in modo onorevole perché non sto dicendo che non ci siano stati tentativi non sto dicendo che non ce ne ha stati non ci siano stati migliaia di persone di europei che hanno voluto prendere un certo tipo di posizione in europa però fondamentalmente da un punto di vista di prospettiva più ampia abbiamo fallito e continuiamo a fallire e non e non perché non ci interessa ma forse per gli incapacitati di vedere che gli strumenti che stiamo usando non sono più quelli corretti o i più efficaci quindi nel 2015 quando ero letteralmente in uno dei paesi più lontani possibili dall'italia perché il cile è più o meno 15 mila chilometri ho iniziato a vedere l'europa crollare sotto il peso di questa crisi e ho sentito un richiamo personale molto importante con con il tornare a casa ripeto io non ho un background in scienze sociali non ho fatto scienze politiche internazionali quindi nessuna ong o nessuna fondazione o nessun corpo delle nazioni unite mi avrebbe presa come volontaria con gli anni ho scoperto che in realtà questo ha giocato il mio favore perché come volontaria ti permettono di stare solo tre settimane in un certo territorio quindi nel momento in cui ti rendi conto di cose che non è fatto bene ti chiedono di andartene quindi in realtà la mia indipendenza il voler fare le cose un po' più a modo mio a parte essere un po' un filo condottore di tutta la mia vita si è confermato essere una cosa che ha giocato il mio vantaggio quindi nel 2015 quando ho iniziato a avere questa grande urgenza ho deciso di tornare in Europa sono stata in Grecia sono stata alla frontiera tra la Grecia e Balcani e Firo la ex Macedonia e sono stata poi in Italia per cercare di capire perché tante persone volessero fare qualcosa per questa crisi e volessero onestamente essere porto sicuro per queste persone e perché non ce la stiamo facendo e da lì ero soprattutto in Grecia il giorno mio compleanno mi ricordo meno tre ai domeni è un gran casino internazionale per la questione della Germania quando Angela Merkel ha deciso di ritrattare sulla questione del programma per rifugiati mi ricordo che alcuni dei cittadini locali dei villaggi o dei paesini che sono vicino alla frontiera con la ex Macedonia avevano iniziato a chiedermi ero riconosciuta come una ragazza della Latinoamerica avevano iniziato a chiedermi se ci fossero dei progetti che io conoscevo del Latinoamerica che stessero funzionando in favela o in settlement quindi in contesti vulnerabili che si potessero semplicemente replicare e adattare lì dove erano loro e vi ricordo chiedere perché, perché non possiamo creare qualcosa noi e la loro risposta è stata perché è tutto così pesante e complesso che non possiamo pensare quindi poter contare su un modello o un blueprint o una ricetta come oggi lo chiamiamo noi impactone ci permetterebbe quell'aspetto di passaggio e di sblocco dal non posso, non so come fare, non so come iniziare al si posso capisco questa ricetta e immediatamente vedo come lo posso fare nel mio proprio territorio quindi lì tra la fine del 2015 e il 2016 è stato per me un po' un momento di epifania dove ho capito che forse quelle narrative intellettuali, filosofiche e veramente di sviluppo individuale e collettivo oggi uno dei formati che si potrebbero usare sono anche dei progetti dove le persone si possano ritrovare non solo con tutte le capacità per rispondere alle sfide che vedono intorno a loro ma capire che possono fare anche meglio e in modo ancora più efficace delle ricette che hanno avuto come riferimento Diventa quasi una sorta di gara virtuosa, ok? Esattamente Io prendo il tuo modello però provo a farlo meglio bellissimo questo perché una delle domande che avevo per te era proprio se l'idea di proporre dei modelli da altri paesi fosse magari stata accolta con un certo scetticismo da quelli in cui venivano portati della serie ha funzionato per loro ma per noi per tutta una serie di ragioni non può funzionare quindi se avessi fatto i conti con un atteggiamento un po' fatalista ma invece sono stati loro stessi a proporti, a farti questa domanda In quel caso sì sicuramente, in realtà uno dei miei timori principali quando ho iniziato a fare questo progetto è proprio il fatto che da ambedue le parti ci potessero essere delle esistenze da una parte perché dovrei condividere il mio progetto con qualcuno in un altro territorio quindi un po' il modello egolatra o evocentrico che conosciamo da un punto di vista prettamente imprenditoriale nel senso negativo, l'imprenditoria non è negativa di per sé ovviamente e dall'altra perché dovrei usare una ricetta che arriva dal Messico e io sono in Vietnam quindi in realtà quelli erano timori che anche da un punto di vista puramente sociologico, psicologico io sicuramente avevo che però in realtà si sono rivelate non così forti come io magari mi aspettavo mi sono chiesto e credo che mi chiedo al giorno d'oggi quale sia il cambio forse di coscienza a cui stiamo in qualche modo che ci stiamo trovando davanti perché sicuramente chi ha creato un progetto e magari ha investito 3, 5, 10 anni in cui il progetto sicuramente vuole un riconoscimento, vuole un credito, vuole un ritorno economico ci possono essere diverse cose ma io credo che chiunque oggi decida di fare un progetto per il benessere proprio degli altri a un certo punto o a qualche livello dentro di sé c'è un'urgenza maggiore a permettere a tutti virtualmente di poterlo usare piuttosto che è il mio, lo tengo io, lo voglio fare io anche perché onestamente un progetto quasi sempre non può scalare da una località a tutte località dove è necessario soprattutto se stiamo parlando di impatto sociale perché la struttura di costi, perché logistica, perché culture diverse, perché lingua diversa quindi credo che ci sia un click interno che stiamo avendo a livello collettivo rispetto al fatto di dire ok questa cosa funziona per me questa ricetta mi è piaciuta, lo facciamo tutti con la questione del cibo, lo facciamo tutti con la questione di pratica e di benessere se ha fatto bene a me fondamentalmente e in fondo a me vorrei che facesse bene dagli altri chiaramente se si può trovare un win-win è meglio però credo che quello è un po' il gran cambio collettivo a cui a cui stiamo arrivando da un punto di vista proprio filosofico quasi e al quale siamo finalmente pronti verrebbe da dire Ascolta Margherita tu hai, mi dicevi che non hai chiesto finanziamenti quindi la domanda mi sorge spontanea con che risorse sei partita, come le hai trovate e come le continui a trovare? Sì è stata decisamente una scelta dura perché purtroppo per fortuna la narrativa del fatto che noi donne stiamo entrando e stiamo diventando sempre più attive nel mondo dell'imprenditore oggi fa sì che la impresa fondata da una donna con un equipo quasi, un equipo scusatemi, un team quello spagnolo che decide di avere un po' più di personalità stamattina un team quasi tutto il femminile diventa un po' un unicorno diventa un po' un unicorno che gli investitori o altre istituzioni vogliono più per una questione di comunicazione, di branding che effettivamente perché sono interessati a capire cosa vogliamo fare e come lo vogliamo fare e essere parte di quell'avventura con noi ovviamente queste sono state anche le mie esperienze nel senso che la scelta di non prendere finanziamenti è stata una scelta anche di ideali per poter dare priorità a una libertà nostra del team rispetto alle volontà di un finanziatore un finanziatore nel momento in cui ti ha dei soldi e entra in equity nella tua impresa ha un obiettivo e può essere, e ci sono tantissimi finanziatori lungimiranti con ottimi valori e che possono essere parti di veramente di progetti e di avventure bellissime ma nel momento in cui un finanziatore entra con un interesse di ritorno economico quella sarà la sua priorità e questo progetto per me è nato, ripeto, da un background di belle arti di pallavolo, una necessità che si possa avere e creare una realtà migliore individualmente e in modo collettivo, quindi la mia priorità non sarà mai profit invece che l'impatto ovviamente lo stiamo facendo funzionare come impresa, ovviamente siamo interessati a generare sempre di più un valore anche economico, ma se dovessi scegliere qualcosa che fa il bene alle persone versus o contro un aspetto economico, non sarei a mio agio dovendo litigare o dovendo avere un contrasto non risolvibile con qualcuno che invece vorrebbe dare priorità alla parte economica quindi nel nostro caso è stata una scelta durissima come nel caso di chiunque prenda delle posizioni simili alle nostre e alle mie nel senso di fondatrice del progetto e quello che abbiamo fatto è stato nel mio caso rimanere per esempio più tempo in latino America poter abbassare quello che si chiama il burn rate, il tuo costo al mese o il tuo costo all'anno in modo tale che tu possa con meno risorse economiche fare lo stesso tipo di lavoro o anche di più proprio per il fatto che non hai così tanta urgenza, quindi quello da una parte e dall'altra uscire un po' della narrativa startup tech che ti dice di avere finanziamenti e al secondo anno devi avere un altro e al terzo anno devi avere un altro perché quello è un copione o è uno script che funziona solo per certi progetti ed è un copione che ovviamente è molto conosciuto, se ne parla molto ma soprattutto perché secondo me riprende un po' il concetto di successo quasi americano, è tipico della Silicon Valley e ci dobbiamo assolutamente ricordare, è quasi un obbligo morale, ricordarci che non è necessariamente ottimale per qualunque tipo di progetto o qualunque tipo di contesto socio-culturale invece che avere finanziamenti da 3 milioni, 20 milioni, 400 milioni ogni due anni chiediamoci se vogliamo che questo progetto sia indipendente da un punto di vista soprattutto intellettuale e allora deve funzionare come un'impresa, se deve funzionare come un'impresa deve avere dei clienti magari all'inizio faremo un prezzo troppo basso o un prezzo troppo alto e ci diranno di no o staremo cercando clienti in un posto invece in un altro posto quindi nel nostro caso è stato un abbassare il burn rate e andare in posti dove questo processo di validazione o processo di test potesse comunque funzionare, potesse comunque essere fatto senza dover per forza sottostare alle volontà di fondamentalmente un partner economico che oggi da un punto di vista legale purtroppo avrebbe molto più potere di noi nel dire che cosa si fa chiaro nel momento in cui hai fatto questa scelta ma probabilmente sarebbe accaduto comunque ci sono delle competenze che ti sei trovata a dover acquisire con fatica cioè nel senso competenze per le quali essere donna si è rivelato uno svantaggio che insomma hai faticato ad acquisire sicuramente ci sono stati tantissimi strumenti, metodologie, terminologie anche da un punto di vista di posture che sicuramente non erano familiari per me che ho dovuto acquisire nel tempo e che in un certo senso non volevo acquisire perché non mi sono mai sembrate necessariamente sane possiamo parlare dalla verticalità del pensare certi sistemi in modo piramidale possiamo parlare del fatto che appunto nel business as usual il profit va prima il profit è la priorità assoluta e non necessariamente l'impatto o il fatto che per esempio noi oggi parliamo di impatto sociale di imprese con impatto sociale pochissimi sanno che è un modello che è stato creato in Italia è stato solo ufficializzato in Inghilterra ma noi italiani facciamo imprese sociali da ben prima che si chiamasse imprese sociale nel vero senso del termine e vedere come per esempio in molti ambiti, in molti eventi, in molti panel in molti gala di fundraising il fare impatto era più una questione di branding o di comunicazione piuttosto che una reale urgenza interna di realmente fare le cose in modo diverso di realmente mettere strumenti a disposizione della collettività in modo tale che si possano creare realtà più sostenibili tutte queste mentalità finanziarie o del business o dell'establishment, della filantropia per esempio sono tutte posture o modelli o valori che erano particolarmente particolarmente lontani non solo dalla mia formazione ma dai miei valori personali che ho dovuto definitivamente acquisirmi nel tempo e ho visto essere soprattutto posture maschili con questo non voglio dire che siano un maschio contro femmine con questo non voglio dire che non ci siano assolutamente e soprattutto nella filantropia moltissime donne e fondazioni che mantengono quel sistema in piedi però so che mi sono trovata da un punto di vista tecnologico da un punto di vista della finanza molto spesso e ti direi quasi troppo spesso in panel o in eventi o in stage solo di uomini e con questa particolare postura di contrasto di io contro te di noi contro loro con vincere significa vincere contro un altro non c'è un concetto di quello che noi chiamo il sisterhood non c'è un concetto di possiamo vincere tutti se le cose vengono disegnate in un certo modo e quindi tu sei riuscita in qualche modo ad acquisire più che ad acquisire a conoscere ecco quello che appunto era un mondo di cui non necessariamente condividevi le dinamiche ed è stata quella conoscenza giusto? condividevi come prima della registrazione che ti ha permesso poi di proporre un modello alternativo giusto? Sì per me devo assolutamente fare una menzione del fatto che tutti noi o tutte noi nel momento in cui decidiamo fare un percorso di questo tipo bisogna per forza aspettarci che ci scontraremo con qualche parete nel senso che nel mio caso non è stato facile capire che quelle erano le regole del gioco che quelli erano i valori di base che quel sistema era costruito con solo quei valori e qualunque voce esterna normalmente veniva allontanata o spenta quindi per me sì è stato importante arrivare al punto ok voglio imparare veramente come funzionano queste regole del gioco beh quel momento è venuto dopo un gran un gran scontro e una grande delusione personale nel non trovare le cose che per me e dentro di me erano in qualche modo quasi ovvie quindi c'è stato quello prima poi appunto capire una volta ritrovata le forze dopo il grande scontro con la parete in ogni caso cilena soprattutto un capire che se confermavo con me stessa come poi ho fatto ovviamente la volontà e la necessità di creare un'alternativa quelle regole del gioco le dovevo imparare per due ragioni primo perché volevo essere nell'arena e per essere in quell'arena assolutamente devi capire le regole del gioco almeno per capire come muoverti e come sopravvivere come essere parte della conversazione ma poi capire le regole del gioco per cambiarle e non necessariamente per cambiarle con la stessa mentalità con cui magari possiamo pensare al cambiare le regole del gioco perché non è un cambiare le regole del gioco per poi sconfiggere tutti gli altri quello dipende molto dal tipo di realtà che vogliamo creare se noi stiamo decidendo di creare un ponte o una transizione verso un modello che veda vincere la collettività invece che un individuo o pochi eletti dobbiamo per forza imparare le regole del gioco perché quel tipo di gioco, quel tipo di obiettivo avrà bisogno di creare un'alternativa dove quelle stesse persone sono coinvolte quindi imparare le regole del gioco è quasi come imparare una lingua nuova è capire come avere la conversazione come comunque sederci allo stesso tavolo come comunque avere quel tipo di confronti però da un punto di vista di confronto non distruttivo un confronto che viene da una chiarezza interna da una postura estremamente ferma estremamente anche severa con certi valori che vogliamo difendere ma senza ricadere nel quindi devo annullare l'altro o quindi non ci voglio parlare che è un po' il grande problema della grande polarità culturale e intellettuale che stiamo riconoscendo oggi l'incapacità di apprendere una lingua diversa delle regole del gioco diverse per poter poi accompagnare la trasformazione per me è stato fondamentale quindi possiamo dire che alcune caratteristiche tipicamente femminili poi qui non vogliamo appunto fare polarismi però tipicamente femminili che possono essere l'empatia possono essere la sensibilità ti sono venuta incontro nel momento in cui dopo aver conosciuto le regole del gioco hai cominciato a creare un ponte un ponte comunicativo assolutamente l'empatia la capacità di aggiustarci a diversi ambienti la resilienza il fatto che non ho ancora conosciuto nessuna donna che messa in una situazione di pericolo o messa in una situazione di emergenza non sia riuscita a tirar fuori dalla borsa o dal cappello magico cose con cui creare una soluzione dal nulla quindi quell'aspetto creativo quell'aspetto resiliente quell'aspetto del comunque si può fare e quell'aspetto del in qualche modo ce la facciamo ma anche e soprattutto quell'aspetto di sisterhood quell'aspetto di sorellanza veramente unica che chiaramente ha il suo alto e il suo basso come sempre come noi donne possiamo essere veramente imbattibili quando ci uniamo possiamo anche essere estremamente crudelli quando decidiamo di essere una contro l'altra nessun estremo è buono e tutto quello che ha una potenzialità per qualcosa di molto luminoso molto positivo chiaramente può essere molto negativo se viene gestito male e da un punto di vista di donne credo che noi non così spesso come mi piacerebbe riconosciamo a noi stesse questa capacità di essere resilienti e creative in un modo unico che se oltretutto lo sommiamo al fatto che possiamo esserlo insieme e fare fronte comune in un modo unico che non conosce cultura non conosce frontiere e non conosce nessun tipo di barriere quello è il tipo di forza che ho automaticamente incontrato nel mio bene e che so che tutti gli ascoltatrici in questo momento che ci stanno ascoltando assolutamente hanno e assolutamente possono usare e che gioca al nostro vantaggio questo pensiero ti aiuta anche a così ritrovare la motivazione quando le cose non vanno come previsto? Sì, ovviamente sì nel senso che anche qua le narrative che dicono che i vincitori non hanno mai dei punti bassi nel loro percorso o non ciampano mai non è assolutamente vero credo che da qualche anno finalmente si parli un po' di più del fatto che i fallimenti gli errori e le scivolate sono parte del percorso credo che noi donne siamo particolarmente brave in essere dure con noi stesse forse perché la realtà è sempre stata dura con noi stesse da vari millenni e quindi non riusciamo ancora a distinguere le due cose e ad avere una postura un po' più amorevole nel mio caso oltretutto allenata come appunto atleta professionista è stato particolarmente difficile allenarmi invece nell'essere un po' più morbida nell'essere un po' più appunto amorevole e gentile con me stessa però sicuramente nei miei momenti o nelle mie giornate un po' più buie quando cammino con questa nube nera in testa e ovviamente si vede benissimo quando sono in queste due situazioni in momenti questa resilienza questa sorellanza e questa il ricordarmi quante volte io con altri con altre e grazie a altre e altre sono riuscita a sollevarmi e rialzarmi è sicuramente un aspetto molto importante perché a volte ci dimentichiamo che non credo che Lady Gaga ultimamente l'abbia detto non è necessariamente quante volte cadi ma è quanto a volte ti rialzi giusto? Giustissimo hai anche un suggerimento pratico da mettere nella cassetta degli attrezzi che ti senti di dare soprattutto alle donne imprenditrici o aspiranti tali quando le cose non vanno come previsto? Sicuramente sicuramente io credo che nessun progetto creativo imprenditoriale esista senza che ci siano intoppi, resistenze, rifiuti e dei grandi no che a volte bruciano tanto perché a volte arrivano veramente da realtà o da persone che non ti aspettavi avrebbero avuto avrebbero assunto una certa postura c'è un concetto molto importante che ho trovato particolarmente potente soprattutto nella mia vita che si può ritrovare in diversi nomi o in diversi modi nelle varie correnti spirituali o intellettuali o filosofiche del mondo e che in italiano potremmo racchiudere con il concetto di pausa la capacità di mettere una pausa quindi di aprire uno spazio di vuoto apparente o di calma tra un'azione o un evento o un sentimento che stiamo avendo e la nostra reazione rispetto a questo è veramente creare uno spazio dove magic can happen dove possiamo creare qualunque tipo di realtà e qualunque tipo di risposta che realmente ha a che fare con i nostri valori o che realmente vi rispecchia nel mio caso ovviamente è stato e continua a essere la pausa qualcosa che è pratico e che in qualche modo è diventato un allenamento quasi quotidiano che dove lo posso applicare in modo tale da diventare sempre migliore può essere quando ricevo un no quando ricevo una brutta notizia quando un'application mi dicono non sono stata scelta quando non mi sento bene e qualcuno mi dice qualcosa che tocca esattamente il nervo scoperto o il polbottone sensibile di quel giorno e chiaramente il tipo di reazione ma di qualunque persona non solo di qualunque donna sarebbe una reazione brusca o una reazione aggressiva o una reazione triste o una reazione da un diciamo from a place of hurt da un posto o da una postura di ferita o di dolore quindi creare quella pausa che nel mio caso per esempio mi aiuta moltissimo la scrittura mi aiuta moltissimo imparare diverse tecniche di respirazione mi aiuta moltissimo uscire io ho una passione e ho una connessione incredibile con la natura quindi anche solo uscire a fare quattro passi e guardare alberi in qualunque città del mondo in qualunque posto del mondo si può trovare un angolino verde con cui riconnetterci al nostro essere human first prima di qualunque altra cosa quindi realmente il concetto di pausa è qualcosa che non solo si può esplorare in modi diversi ma si può praticare o diciamo mettere a disposizione la nostra vita in modo molto diverso e proprio in un modo che fa bene a noi alcuni potrebbero dire bere un bicchiere d'acqua o fare yoga in inglese diremmo whatever works qualunque modo in qualunque modo funzioni se funziona per te usalo fantastico Meg ultima domanda qual è la donna che dovrei che dovrei intervistare dopo di te secondo te? questa è una domanda che mi hai fatto in preparazione nella nostra puntata ed è stata veramente difficilissima ho l'onore e il piacere di essere accompagnata da moltissime donne incredibili credo che la mia nomina oggi vada a Marta Ghiglioni che è una ragazza giovanissima che ho l'onore di chiamare amica che vive la sua vita tra treni tra Roma e Milano oggi e che fondamentalmente è una delle leader veramente italiane e mondiali della tecnologia applicata alla finanza che appunto quei due mondi che più volte noi oggi abbiamo abbiamo menzionato come mondi prettamente maschili storicamente prettamente maschili lei non solo è una ragazza incredibilmente giovane incredibilmente camace coraggiosissima e con una testa e un cuore difficili da descrivere veramente incredibile ma che oltretutto sa oggi in una posizione dove ha deciso e dimostra tutti i giorni il tipo di realtà diversa che vuole creare in quei due mondi è una ragazza che si ritrova in riunioni tra direttori dove chiedono a lei l'assistente quando arriva la direttrice il direttore dove dover dire no veramente la direttrice sono io quindi non farò nessuno spoiler con rispetto alle cose che sta facendo oggi perché decisamente credo che lei sia la ragazza che dovrebbe essere la prossima ospite Maggie io ti ringrazio veramente dal cuore è stata una bellissima chiacchierata ti faccio un in bocca al lupo enorme per impact on che davvero è uno dei progetti di impatto sociale che fino ad ora è a maggior impatto sociale ed ambientale che fino ad ora abbiamo avuto l'onore di ospitare ad impact girl ragazze che siete in ascolto vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per esplorare e approfondire quello che fa Margherita all'interno del blog post dedicato alla puntata quindi sia che lo stiate guardando sia che lo stiate che sia che abbiate deciso di ascoltare l'episodio troverete tutti i dettagli nella parte descrittiva testuale e vi ricordo anche che lì troverete il minutaggio preciso di tutti i punti che abbiamo approfondito oggi così che possiate recuperare subito quello che vi interessa senza perdere altro tempo naturalmente condividete nello spazio dedicato ai commenti la parte che vi ha colpito di più io vi faccio un vi do un grandissimo abbraccio e Margherita ti mando un super bacio virtuale un abbraccio a vos come diremmo in latino america ciao bella ciao questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a biz academy puoi farlo visitando il sito biz-academy.it noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di impact girl